Il gruppo consigliare SEL Silvi 2024 intende fare propri i principi e i valori della strategia Rifiuti Zero con l'obiettivo di porre le basi per un sistema completamente nuovo di gestione dei rifiuti in modo da affrontare concretamente le esigenze delle famiglie e delle imprese di Silvi per migliorare la qualità del servizio offerto, per la riduzione sostanziale e tangibile delle tariffe, per la piena sostenibilità ambientale. Sicuramente è un coinvolgimento maggiore visto che ad oggi i risultati non sono soddisfacenti, è un coinvolgimento maggiore della cittadinanza, una sensibilizzazione maggiore nelle scuole, ci poniamo l'obiettivo proprio di essere quasi pedanti con la cittadinanza affinché finalmente riusciamo a raggiungere quel risultato che tutti ci prefissiamo, che da anni il comune di Silvi proclama ma non riesce mai ad ottenere. Noi puntiamo ad una tariffa puntuale quindi di andare incontro ad una migliore produzione di rifiuti più qualificata e chiediamo altresì che la tariffa puntuale diventi un punto di forza di questo bando. Questa tariffa puntuale permette anche di andare ad usufruire dei contributi con AI che vengono dati per una migliore produzione di rifiuti andata a conferire in questo consorzio. È importante sapere che questo CONAI per l'anno a venire ha stanziato dei contributi più importanti rispetto agli anni passati. Questo significa che il cittadino che va a differenziare è incentivato ancora più perché è la tariffa che viene a scendere.